Apertura di nuovi reparti ma soprattutto incremento della pianta organica. A primo obiettivo il potenziamento del personale medico e paramedico e su questo ha ricevuto rassicurazioni che fanno ben sperare per il futuro degli ospedali del DEA. I vertici dell'azienda sanitaria salernitana lo avrebbero ribadito al neodirettore Maurizio D'Ambrosio durante l'incontro interlocutorio di ieri durante il quale di fatto gli è stata annunciata l'investitura a reggere le sorti di tre importanti ospedali dell'agro nocerino sarnese. In via di completamento l'organico dei medici anestesisti a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali seguite anche da altri concorsi tuttora in atto. Una notizia importante perché con l'incremento degli anestesisti e rianimatori si riusciranno a smaltire tra l'altro le lunghe liste d'attesa per le sale operatorie. E saranno assicurazioni ci sarebbero state anche per gli altri reparti attraverso proprio l'arrivo di nuovi medici ed infermieri che sono previsti attraverso procedure concorsuali e mobilità. La prospettiva per il neodirettore D'Ambrosio è l'apertura di nuovi reparti nei tre ospedali che siano strategici per l'assistenza sanitaria di tutto il comprensorio. Ci sarebbe tutta la buona volontà e tutta la disponibilità ad affrontare e risolvere le problematiche degli ospedali dell'area nord di Salerno da parte dei vertici di Vianizza nella consapevolezza dell'importanza dell'assistenza sanitaria nel territorio più densamente popolato della provincia salernitana. La priorità per un'adeguata assistenza ospedaliere in questo momento è proprio il personale. Tra quota 100 e pensionamenti gli organici sono ormai ridotti all'osso riversando su chi è rimasto il carico di lavoro di tutti. Una situazione non più tollerabile per chi quotidianamente lavora per salvare vite umane. Non ultimo l'SOS è lanciato dai medici della terapia intensiva neonatale dell'Umberto I di Nocera Inferiore. 6 medici che devono garantire un accesso di 9.000 piccoli pazienti all'anno. Un lavoro di concentrazione delicato e loro per il quale non si può pensare di svolgerlo in situazioni di stress. E' questo che il dottore D'Ambrosio che ben conosce la situazione per aver già diretto il polo Paganino Cera Scafati sa bene e di questo ha voluto discutere con la direzione dell'ASL Salerno prima ancora della formalizzazione della sua nomina che avverrà all'inizio della prossima settimana al rientro del responsabile del personale dell'ASL ancora in ferie. Grazie Grazie